Da oggi 27 aprile un'ordinanza del presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, consente per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, come ristoranti, rosticerie, friggitorie, pizza al taglio, ma anche gelaterie e pasticcerie, di effettuare il servizio da sport o take away, previa ovviamente prenotazione online o telefonica. Anticipando di fatto di poche ore ciò che poi Conte avrebbe annunciato in televisione per la partenza della fase 2 a partire da giugno, il presidente prova a ballare da solo su questo argomento, forse spinto anche dalle forti pressioni della categoria che si sta mobilitando e organizzando per alzare un po' i toni della partita. Ma stando alle prime considerazioni dei diretti interessati, questa mattina almeno nella nostra zona, l'accoglienza di questa fuga in avanti è stata abbastanza tiepida, anche perché maggiormente per pasticcerie e gelaterie la faccenda è molto più complessa, non solo per il take away, ma proprio per come si articolerà il servizio a partire da metà giugno. Il governo non è che sta dando aiuti importanti per le nostre categorie, faccio presente anche il fatto che comunque se immaginiamo il discorso che un domani, il 2 giugno, saremo aperti con le distanze dovute e con la possibilità di entrare in un'attività come la nostra bar pasticceria o anche ristorazione, perché le categorie sono medesime, con la distanza di tavoli a 2 metri, con la possibilità di entrare contingentati, quindi in pochi dentro un negozio. Immaginate la scena che uno prende un cappuccino e una brioche alla mattina leggendo con pace il giornale sapendo che dietro c'è la fila che aspetta che è il suo turno, quindi sarà un disastro anche questa iniziativa. Idem con patate per la ristorazione che vede queste operazioni come una goccia in mezzo al mare. Noi già stavamo facendo del delivery perché è un po' una boccata d'ossigeno, adesso in qualche maniera il decreto non abbiamo ancora capito tutti i dettagli e ci aspettiamo da un momento all'altro perché abbiamo un gruppo di 6-700 tra ristoratori e bar in cui abbiamo un po' diviso i compiti tra noi in modo da poter in qualche maniera dare una direttiva per capire come ci dobbiamo comportare nella realtà, se consegnare questi pacchi fuori dal ristorante. Dobbiamo anche vedere quale sarà effettivamente l'impatto sulla gente, cosa farà la gente se verrà effettivamente. Questa operazione a sport della Regione Marche assieme a Emilia Romagna ed Abruzzo non ferma di certo però l'ondata della protesta nazionale del settore che vede lo chef stellato Gianfranco Vissani capopopolo di tutte le parannanze che per martedì e mercoledì prossimi scenderanno in piazza. Terremo la sera del 28 le nostre luci accese nei locali con un tavolo imbandito, imbandito di tutto punto nel senso che metteremo tutte le tovaglie e quant'altro per poi diciamo il giorno d'oro ci sarà questa riconsegna delle chiavi, ognuno di noi porterà una chiave simbolica al sindaco con il proprio biglietto da visita perché la sera del 28 dovrebbe essere l'ultimo giorno di apertura anche se ci hanno detto che il primo di giugno potremmo riaprire però nella realtà ricordo con incassi al 30% e con spese al 100% difficilmente molta gente non potrà riaprire a meno che non decidano dall'oggi a domani di riaprire tutto e tutto torna alla normalità.